Decolla l'operazione Natale Sicuro con la questura di Agrigento che ha disposto un'immediata intensificazione dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio nel capoluogo e nelle sedi di commissariato di polizia. I dettagli dell'operazione che andrà avanti per tutto il periodo delle feste sono stati resi noti questa mattina dal questore Maria Rosa Iraci nel corso di una conferenza stampa. A seguito di attente valutazioni operate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è reso una necessario intensificare ha detto il questore le misure in atto disponendo servizi mirati straordinari di controllo del territorio ad integrazione degli ordinari moduli operativi in atto vigenti. Come è noto infatti il periodo che precede le festività natalizie di fine anno si caratterizza tradizionalmente per l'accentuazione della movimentazione di denaro delle attività commerciali in genere e della mobilità delle persone sul territorio con il conseguente innalzamento del rischio di un incremento di attività delittuose specialmente reati contro il patrimonio. Al fine di garantire una più incisiva azione di vigilanza e controllo del territorio la polizia impiegherà per l'intero arco della giornata pattuglie aggiuntive che presideranno le zone di maggiore afflusso e aggregazione di persone pertanto oltre al centro storico della città di Grigento anche le aree del villaggio Mosè, Villa Seta, Monserrate e Fontanelle dove insistono negozi ed esercizi commerciali di media e grande distribuzione. Continuerà nelle ore serali e notturne anche il presidio delle aree urbane cittadine dove insistono locali notturni anche al fine di infrenare il fenomeno già riscontrato e sanzionato della somministrazione di bevande alcoliche a minori età e per assicurare la serenità e la regolarità della movida cittadina. Pattuglie appienate sono operative anche lungo la via Atenea, il centro commerciale città dei templi del capoluogo e le vinghe di Castrofilippo, luoghi notoriamente frequentati da numerosi avventori per il tradizionale shopping natalizio.